Il biologico pugliese e le prospettive nel piano strategico nazionale sono state al centro del primo workshop regionale tenutosi all'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari. Vediamo. I terreni coltivati in biologico occupano circa l'8,5% della superficie agricola europea, tra gli obiettivi da raggiungere entro il 2030 convertirne almeno il 25% al regime di produzione biologica. L'Italia con il 15,2% è tra i paesi più virtuosi, strategico dunque il ruolo affidato all'agricoltura biologica di regioni come la Puglia per rispondere alle grandi sfide dal Green Deal europeo alla nuova PAC, la politica agricola comune. E la collaborazione tra Regione Puglia e SIE Ambari, l'Istituto Agronomico Mediterraneo, ha portato alla realizzazione del piano di innovazione per lo sviluppo e la gestione dell'osservatorio regionale sull'agricoltura biologica, nonché del sistema integrato Biobank Open Project. Per poter essere in grado di erogare risorse a 7.000 agricoltori biologici in tempi rapidi, così come essi richiedono e come è giusto che sia, abbiamo bisogno di raffinare la burocrazia, di essere in grado di avere degli strumenti informatici, in grado di controllare e garantire che i contributi vadano a chi li merita e a chi effettivamente gestisce in biologico il proprio territorio e il proprio appezzamento. Ecco, con SIEM abbiamo messo a punto questo strumento informatico, questo portale che ci consente anche di registrare e controllare che effettivamente tutti gli agricoltori biologici possano avere diritto al proprio meritato compenso. Il biologico pugliese e le prospettive nel piano strategico nazionale sono stati al centro del primo workshop regionale tenutosi al SIEM Bari, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali europei, nazionali e regionali. Attraverso il piano strategico l'Italia vuole accompagnare quel percorso che l'Europa ha definito non solo nel Green Deal, ma soprattutto nelle due strategie Fan to Fork, dal campo alla tavola e la strategia sulla biodiversità. Sono 25 anni di attività che noi comunque abbiamo svolto in forte sinergia con l'assessorato all'agricoltura e naturalmente con tutti i dirigenti che si sono occupati dell'agricoltura biologica.